Ciao, bentornati su MyFootballJersey. So che mi richiedete in tanti le comparazioni tra le versioni diverse delle maglie e quindi ho deciso di fare questa, che è una delle mie maglie preferite, la terza maglia del Real Madrid per la stagione 22-23 in edizione player e in edizione fan. Come potete vedere le maglie sono molto simili. Ovviamente nella versione player il logo di Adidas e lo stema del club sono termosaldati, mentre nella versione fan questi sono ricamati. Vi ricordo sempre che la versione player ha una vestibilità diversa, molto più aderente perché è pensata per il fisico degli atleti, quindi consideratelo quando la ordinate. La versione fan invece è ideata per il tifoso e quindi ha linee un po' più morbide e materiali meno tecnici. In questa maglia non ho trovato una grandissima differenza a livello di tessuto sebbene la versione player ovviamente abbia un tessuto un po' più ricco. Cosa ne pensate? Spero che il video vi sia servito per vedere quelle che sono le differenze. Quella che vedete è una taglia large della versione player che come vi dico sempre vesti un po' di meno perché è pensata al fisico degli atleti, quindi questa se avete un po' di pancetta mi dispiace dirlo, non è la maglia che fa per voi. Questa che vedete invece è la versione fan, quella pensata per i tifosi, quindi un po' più comoda, che costa anche un po' meno, con materiali meno tecnici. Di questa io indosso sempre la mia taglia normale, che è la taglia M. Io normalmente ho un debole per la versione player perché è un po' più tecnica e il tessuto molto più bello e lavorato. Devo dire però la verità che tra queste due, tra la versione appunto fan e la versione player di questa maglia non ho trovato particolari differenze. Ovviamente la versione player ha sempre comunque una piccola preferenza in più, ma anche la versione fan devo dire che è stupenda, meravigliosa. Ora io spero che il video vi sia piaciuto e spero che possiate per questo regalarci un like e iscrivervi al canale. Per oggi è tutto, ci rivediamo prossimamente, ciao!